l'africa mediterranea l'africa è il secondo continente della terra per superficie si estende dal mar mediterraneo al capo di buona speranza è bagnata a ovest dall'oceano atlantico e a est dall'oceano indiano grazie alla sua estensione nel senso longitudinale l'africa è attraversata dal tropico del cancro dall'equatore e dal tropico del capricorno pertanto comprende una grande varietà di climi e ambienti l'africa settentrionale detta anche mediterranea è la parte di questo continente che si affaccia sul mar mediterraneo essa arriva fino al tropico del cancro e comprende gli stati del marocco dell'algeria della tunisia della libia e dell'egitto confina a ovest con l'oceano atlantico a nord col mar mediterraneo a est col mar rosso e a sud col sahel che si definisce bordo il bordo praticamente del deserto del sahara ricordiamo i due stretti lo stretto di cibilterra che separa il continente africano dall'europa e si trova in questo punto e il canale di suez che separa il continente africano dal territorio asiatico ricordiamo a questo riguardo che l'egitto si estende anche nella penisola per un breve tratto sulla penisola del sinai in asia la regione definita maghreb in arabo significa occidente comprende marocco sahara occidentale algeria tunisia il territorio è occupato in gran parte da un basso tavolato desertico il deserto del sahara e il deserto libico per quanto riguarda le alture ricordiamo la catena dell'atlante altri massicci in marocco altri massicci si innalzano all'interno dell'algeria agar e tassili che troviamo in questo punto e in marocco è presente la cima più alta della regione che il tubu cacal le pianure di dimensioni limitate si estendono lungo le coste il fiume principale è il nilo che forma una valle tra le più fertili e popolose dell'africa sono presenti i fiumi a carattere torrentizio che scendono dai rilievi dell'atlante fino al mediterraneo e all'oceano nel complesso la regione povera di acque climi e ambienti a eccezione delle zone costiere che presentano un clima e una vegetazione tipici mediterranei con inverni miti ed estati poco piovose la regione è un clima arido e spesso desertico dove sono presenti temperature torride ed elevate escursioni termiche di giorno la temperatura può oltrepassare 50 gradi centigradi mentre di notte precipita anche sotto lo zero le piogge sono scasse e irregolari nel deserto sono presenti ben 1500 specie di vegetali tra cui il pistacchio il tamarisco acace spinose e la vegetazione tipica è costituita da erbe molto robuste che sopravvivono nel terreno arido perché le loro radici penetrano in profondità vivono nel sahara sciacalli gazzelle dromedari e animali che sanno resistere a quelle temperature molto come dire difficili per la vita per la vita